In centro a San Pietravellana, adiacente alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, proponiamo un vendita a un fabbricato indipendente di ampia metratura. La struttura è divisa in due unità abitative, ideale per due famiglie che vogliono essere vicine ma ad avere tuttavia la propria indipendenza, oppure usa investimento per realizzare una struttura recettiva. Vieni, andiamola a vedere! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!